Ci abbiamo visto lungo perché abbiamo creduto da subito in questa squadra giovane, come giustamente viene definita. Una squadra che è organizzata bene, con un ottimo management, un bravissimo presidente. E noi abbiamo già fatto tanto per loro perché consideriamo le iniziali condizioni di quello che era l'avvio del campionato, dove hanno giocato anche fuori dalle nostre mura, fuori da Napoli. Con un atto anche importante siamo riusciti a riaprire il palazzetto dello sport, l'unico che noi abbiamo in questo momento. Gli abbiamo dato una dignità, abbiamo una capienza intorno ai 3500 posti, abbiamo dato loro una casa. Poi, che dobbiamo lavorare tutti quanti per avere un palazzetto dello sport adeguato alle esigenze di una grande città, su questo ci sta. Abbiamo però costruito le basi per andare avanti, abbiamo finalmente una squadra di basket in città che porta il nome di Napoli lontano dalla nostra città e con obiettivi sempre più importanti. Tutti insieme credo che possiamo lavorare a costruire anche un'impiantistica sportiva adeguata, come dire, anche alle gesta sportive di una buona squadra.